Intanto non ha cambiato solo la gara, perché comunque, anche grazie ai risultati sono stati degli altri campi, si vede continuare a poter sognare e questo è ovvio che con un risultato diverso sarebbero migliorate ancora le prospettive, però questo purtroppo non è andato così e sappiamo che non era facile oggi, non lo è stato soprattutto nella prima parte, nel primo tempo. Nel secondo tempo onestamente siamo conosciuti molto e quando siamo andati in vantaggio era un momento in cui eravamo la partita più in controllo di tutto il resto della gara e per l'unione della sorte abbiamo preso due gol in breve tempo, proprio in quella frazione. Peccato perché, al di là di tutto, per come si era messa poi la gara dispiace molto.